Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi diamo una spiegazione rapida delle nostre reti ergonomiche, ovviamente, sia nella versione matrimoniale che nella versione singola. Vi spieghiamo un po' come è composta una rete, qual è la sua funzione principale e come scegliere la rete adatta a noi. Quindi, partiamo dal principio basilare di ogni rete e sfatiamo anche un mito, che tanti miei clienti, quando vengono ad acquistare un materasso, mi dicono no, la rete è buona, è una rete rigida e va benissimo per qualsiasi materasso. Sbagliato, la rete non deve essere rigida perché altrimenti non fa lavorare bene il materasso e quindi rischia di rovinarlo. Quindi la rete non deve essere rigida per definizione. Alcune reti sono semi rigide e vanno bene per determinati tipi di materasso. Oggi qui noi abbiamo la nostra rete che è il nostro cavallo di battaglia, quindi la rete più venduta che è con le doghe in faggio e non in betulla, come tanti tanti miei colleghi vendono per economia le doghe in betulla, che purtroppo hanno un grosso difetto. La betulla non ha un bel punto di sinervatura e quando arriva a un certo punto si piega, si piega e si spezza. Il faggio invece è molto flessibile, come possiamo vedere garantisce un comfort maggiore. Quindi l'importanza di quando voi andate a scegliere una rete che sia con la doghe in faggio, che sia un profilo almeno che abbia qui 5 cm, altrimenti è troppo esile, non lavora bene. Cosa molto 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 importante, specialmente nelle rete matrimoniali, che ci siano 14 listelli o doghe, come volete chiamarli. Perché 14? Perché in modo tale che le doghe lavorano tutte in via uniforme e non si crei questo spazio molto maggiorato in modo che quando si mette un materasso in testa, se manca questa doghe, quindi anziché 14 abbiamo 13, rischiamo che il materasso si piega e alla lunga si possa danneggiare o comunque non ci fa riposare bene. Altra particolarità di queste doghe è che hanno un profilo di alluminio bello spesso. Quindi non è la classica rete economica che vediamo in commercio, ma è una rete con profilo più spesso. Nella versione matrimoniale vediamo nella parte centrale le doppie traverse. Queste sono anche fondamentali e garantiscono un certo comfort. È ovvio che queste traverse devono essere collocate sotto le doghe e non sopra, come alcuni modelli di rete sono presenti in mercato e hanno queste traverse o spesso e volentieri in via centrale hanno quella traversa che ci divide la doghe. Quella non è una doghe prestigiosa, ma è una doghe purtroppo economica che non fa lavorare bene tanti tipi di materassi. Quindi, morale della favola, quando andrete a scegliere la vostra rete per il vostro materasso, state attenti alle doghe, quindi che abbia abbastanza doghe, e il profilo che sia in alluminio e sia bello spesso. Grazie per la vostra attenzione, guardate altri video che vi riportiamo sotto tutti i nostri collegamenti e lasciate un bel like alla pagina. Alla prossima! Grazie per la visione!